ciao a tutti e benvenuti nel tutorial di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso punto trafolato con le mali allungate e incrociate sulla base del rasato questo un punto che ha due lati questa è la parte rovescia quindi vediamo tutte le mali che si presentano a rovescio e la parte da davanti che si presenta con questo punto motivo rasato è un motivo davvero molto fine facilissimo da fare e dà la possibilità di andarlo applicare veramente per tantissimi progetti sia maschili che femminili in quanto un punto davvero molto fine molto elegante guardate che meraviglia ci sono delle diverse varietà può essere utilizzato e applicato veramente per tantissimi progetti anche in base al filato che andremo appunto utilizzare ora noi andiamo a vedere insieme appunto come realizzarlo questo il nostro motivo è un multiplo di sei mali e di sei feri quindi noi ora per il nostro campioncino andiamo avviare 20 mali e di cui avremo sei ma 18 mali e che sono tre volte il nostro motivo e due mali per vivagno quindi avviamo con l'avvio alla nordica le nostre 20 mali ed ecco qui abbiamo avviato le nostre mali e iniziamo con la nostra realizzazione la prima cosa da fare è dobbiamo andare mettere la nostra base del motivo rasato quindi ora andremo lavorare quattro ferri alternando una un ferro a diritto un ferro a rovescio per riprodurre il punto rasato quindi il primo ferro lo faremo a diritto il secondo a rovescio il terzo a diritto il quarto a rovescio quando abbiamo la base ci vediamo per vedere il quinto e il sesto ferro che sono dei feri nei quali noi andiamo fare delle lavorazioni particolari dove andremo a incrociare i nostri le nostre maglie lunghe quindi lavoriamo quattro feri mettendo la base del motivo rasato ed ecco qui abbiamo fatto i nostri primi quattro feri abbiamo la nostra bella base rasata ora il nostro passaggio successivo consiste nell'andare dare la base ai nostri maglie lunghe e li andiamo a fare sul ferro numero 5 per farli noi dobbiamo andare entrare nell'asolina della maglia e ricavare da uno tre mali in questo modo entriamo tre volte praticamente nella stessa asola e creiamo tre quindi dobbiamo entrare in un'asola e agganciare tre volte il filo per creare tre male uno rientriamo due rientriamo tre questa è la nostra base delle maglie lunghe se volete le maglie più lunghe potete entrare più volte ma noi entriamo tre per riprodurre lo stesso risultato che abbiamo sul nostro campioncino con il traffolato giusto e con una distanza media tra i rasati facciamo così per tutto il nostro ferro per tutte le nostre maglie andiamo quindi aumentare il numero delle maglie facendo e dando la base delle maglie lunghe entriamo quindi in ogni asolina tre volte in di ogni asola di maglia la male di vivagno va lavorata normalmente per conto su singolarmente quindi a diritto normale ed ecco che abbiamo fatto i nostri primi cinque ferri e abbiamo messo la base delle maglie lunghe ora il ferro numero 6 il ferro numero 6 è anche l'ultimo ferro del nostro motivo la male di vivagno noi la spostiamo ora abbiamo le nostre maglie triple quindi le andiamo da tre farne solo una quindi le andiamo entriamo nella prima asolina e tiriamo in questo modo noi torniamo al numero originale delle maglie e creiamo anche le maglie lunghe quindi non stiamo lavorando semplicemente agganciamo la prima di tre e le allunghiamo e così dobbiamo andare a creare sei maglie lunghe guardate qui noi abbiamo le nostre prime sei maglie lunghe con quali ora andremo anche a lavorare perché sul ferro numero 6 facciamo sia allunghiamo che incrociamo ora con il ferro di sinistra dobbiamo entrare nell'asola di prime tre maglie lunghe e farli passare sopra alle ultime tre maglie quindi come se li avessimo accavalcati e avessimo fatto questo incrocio abbiamo creato l'x con le maglie lunghe una volta che abbiamo creato la nostra x con le maglie lunghe rimettiamo le maglie dal ferro di destra sul ferro di sinistra ora siamo pronti per andarli lavorare e tutti questi sei mali li lavoriamo con un rovescio semplice quindi 1 2 3 tutto rovescio semplice 4 5 e 6 ed ecco che abbiamo fatto il nostro primo incrocio con le maglie lunghe e così dobbiamo procedere per tutte le nostre maglie del nostro progetto vediamo insieme anche il secondo blocco guardate entriamo nella asolina prima 1 2 tiriamo creiamo maglie lunghe 3 4 entriamo 5 e 6 ora le sei maglie lunghe li dobbiamo fare incrociare lo facciamo così ci aiutiamo anche con le dita delle mani teniamo ferme le ultime tre maglie entriamo in nasola di prime che si trovano su destra facciamo questo incrocio accavalchiamo le ultime tre maglie lunghe con le prime tre ora tutte le maglie li spostiamo sul ferro di sinistra e sono pronti per essere lavorati li andiamo lavorare a rovescio semplice quindi entriamo in asolina di 6 maglie lunghe incrociate e le lavoriamo a rovescio semplice così dobbiamo procedere per tutto il ferro per tutte le mali che avremo per il nostro progetto è facilissimo da fare ma che ci permette creare un gran bel effetto la maglia di vivagno la andiamo lavorare a diritto semplice ed ecco qui abbiamo visto come creare questo meraviglioso motivo il nostro primo blocco è pronto abbiamo visto tutti i sei ferri ora non dobbiamo fare altro che andare ripetere la lavorazione di questi sei ferri passaggio successivo infatti consisterà nell'andare rimettere di nuovo la base di rasato da quattro ferri per poi fare sul ferro 5 le maglie lunghe e sul ferro 6 incrociarli lavorare e così dobbiamo andare a procedere per tutto il nostro progetto speriamo che questo motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegarvi in modo chiaro tutti i passaggi ovviamente se ci sono domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo e tantissimi meravigliosi punti che stiamo preparando per voi in più ci potete trovare anche su facebook dove abbiamo sia la pagina che il gruppo grazie a tutti al prossimo video tutorial Grazie a tutti